Il Seravezza Pozzi compie ancora un'altra bella impresa, superando il Trestina per 2-1 grazie alla doppietta del suo bomber Lorenzo Benedetti che va in gol al sesto, poi il pareggio di Gramaccia e il bomber verde-azzurro regala la vittoria ai suoi con il gol messo a segno nel recupero. Tre punti che portano a due lunghezze dalla vetta la squadra di Cristian Amoroso. Il Tau Calcio ha pareggiato 2-2 con il Poggi Bonzi, vantaggio dei locali con Oudianose, gli ospiti pareggiano con Marcucci, nella ripresa il Poggi Bonzi passa in vantaggio con Gucci ma ci pensa poi Andolfi ad evitare la sconfitta ai ragazzi di Venturi pareggiando i conti. Risultato che sta comunque stretto ai locali. Il Poggi Bonzi finisce in 10 per l'espulsione di Mencagli. Il Grosseto supera in extremis il Giviborgo 2-1, vantaggio dei Maremmani con Marzieri, il pareggio di Carcani ma nel finale in pieno recupero è arrivata la rete di Riccobono, una vera beffa per la squadra di Lelli che comunque con Poli colpisce un palo che poteva valere il pari. L'Orvietana sfrutta il fattore campo battendo 2-0 il Re al forte Querceta, l'Ereti nella ripresa all'undicesimo con Orchi, poi il raddoppio addirittura al cinquantunesimo con Stampete ma prima Purro su rigore aveva avuto la possibilità di pareggiare al ventottesimo. Il pallone però finisce sul palo. Quinta sconfitta di fila e ultimo posto per i ragazzi di Francesco Buglio. Per ciò che riguarda l'eccellenza, Geotermica Camaiore 0-2, Massese Castelfiorentino 0-0, River Pieve Fucecchio 0-3, in promozione Larcianese Pieve Fosciana 2-0, Castelnuovo Maleseti 1-0, Real Ceretese Petrasanta 1-2, San Marcavenza Viareggio 0-3, riposava al viaccia.